Il governo deve sostenere gli investimenti, non va data una stretta al credito e bisogna procedere al taglio del cuneo fiscale e all'abbassamento delle tasse. E' il quadro delineato dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel suo intervento alla conferenza nazionale delle Camere di Commercio. Non possiamo non essere d'accordo con lui. L'aumento costante dei tassi di interesse da parte della Banca Europea può portare alla recessione con una nuova povertà, disoccupazione e moria di imprese. Quindi stop al rialzo dei tassi, abbassamento delle tasse e sostegno alle imprese. Questa è la ricetta.